La grandezza del palazzo di Erode, la miseria della grotta di Betlemme. In entrambe si imbattono i magi, nella loro lunga strada da Oriente alla ricerca del Messia indicato dalla stella, e in entrambi i casi devono superare una tentazione. Davanti alla folla di fedeli che gremisce la Basilica di San Pietro per la messa solenne dell'Epifania, il Papa ripercorre la vicenda dei tre sapienti, che simboleggiano, ha detto, gli uomini e le donne in ricerca di Dio nelle religioni e nelle filosofie del mondo intero, una ricerca che non ha mai fine. Tuttavia evidenzia Francesco, lungo la strada che gli porta a Gesù, i magi perdono di vista la stella. La prima volta con Erode, convinti che il nuovo re non potesse che nascere in un palazzo reale, quindi l'abbaglio del potere. Poi l'opposto, il possibile rifiuto della piccolezza davanti al bimbo nella grotta. Ma i magi, guidati dallo spirito, comprendono la grandezza dell'umiltà e sono per noi, afferma il Papa, modelli di conversione. Il presepe ci prospetta una strada diversa da quella vagheggiata dalla mentalità mondana. È la strada dell'abbassamento di Dio. Quell'umiltà dell'amore di Dio si abbassa, si annientisce. La sua gloria nascosta nella mangiatoia di Belem, nella croce sul Calvario, nel fratello e la sorella che soffre. I magi sono entrati nel mistero. Sono passati dai calcoli umani al mistero. E questa è stata la loro conversione. Chiediamo al Signore, ci conseda di vivere lo stesso cammino di conversione vissuto dai magi, che ci defenda e ci liberi dalle tentazioni che nascondono la stella.